sovralimentazione a pressione costante o a impulsi di pressione questo è quello che andremo a parlare oggi salve a tutti e bentornati in questo nuovo video faccio una piccola premessa per dirvi immediatamente che cercherò di fare quanti più tagli posso a questo video per renderlo il più breve possibile questo perché perché come potete vedere dalle immagini per caricare l'ultimo video ho speso quasi una scheda sana di internet il che mi ha dato alquanto fastidio quindi adesso se la it non aggiusta le antenne e le fa lavorare come dio comanda io vado su e gli taglio il collo torniamo a noi oggi vi parlo di un aspetto della sovralimentazione che da sempre e quando vi dico da sempre è da sempre ha rotto i coglioni a tutti gli ingegneri e ha richiesto un bordello e vi dico un bordello di test e studi ovvero quello dell'ottimizzazione del passaggio dei gas di scarico tra lo scarico dei cilindri e l'ingresso alla turbina in modo da cercare di sfruttare quanto meglio si possa l'entalpia residua dei gas di scarico per aumentare la pressione dell'aria l'entalpia se non lo sapete non è altro che detto in parole povere la quantità di energia interna che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente che normalmente viene misurata o in joule o in calorie chiaro ora il collegamento fra gli scarichi dei cilindri e la turbina può essere fatto in due diversi modi ovvero a pressione costante oppure a impulsi di pressione vediamo un po le differenze nella sovralimentazione a pressione costante tutti i scarichi dei cilindri non faranno altro che andare a confluire in un unico collettore di grandi dimensioni dove tutti i picchi di pressione dovute agli scarichi dei cilindri andranno a perdersi faccio un piccolo esempio in modo tale che capiate sto discorsetto qua provate a sputare aria a impulsi tipo fate finta che voi avete qua un pistone e state buttando aria se la bocca è chiusa sentirete una certa pressione se la bocca è aperta mettiamo il caso nostro a pressione costante quindi con un collettore grande immaginiamo che abbiamo la bocca aperta non sentirete assolutamente pressione sulla mano mentre invece se il collettore faccio fin da che è un po più stretto la stessa ora tutti questi picchi di pressione che potrebbero essere benissimo sfruttati come abbiamo detto vengono lasciati morire all'interno del nostro collettore ma ma in compenso la pressione all'interno del nostro collettore si andrà a stabilizzare ad un valore quasi costante che andrà ad alimentare la nostra turbina la quale lavorerà quindi in condizioni di un buon rendimento chiaro fino a qua no ora capito come funziona il sistema ci viene facile immaginare quali possono essere i suoi pregi i suoi difetti e su quali tipi di motore può essere installato c'è il fatto che i picchi di pressione non potranno essere sfruttati ci fa capire immediatamente che il motore dove sarà installato questo tipo di sistema avrà una reattività pare a quella di una tartaruga che sta per essere mangiata da un leone e vuole scappare quindi il nostro motore non sarà reattivo manco per il cazzo detto in parole povere ne deriva quindi che è consigliabile usare questo tipo di installazione su dei motori due tempi che come sappiamo sono caratterizzati da lunghi periodi di esercizio a regime costante giusto ora non so se a voi vi è mai capitato di lavorare su qualche nave che aveva dei motori due tempi se ci avete lavorato avrete sicuramente visto che sul collettore di aspirazione dei motori due tempi in quelli che ho fatto io su tutti c'erano comunque penso che su tutti ci siano ci sono installati dei blower elettrici questo perché questo appunto per dare al motore quel poco più di attività che serve durante le manovre dove giustamente si avranno più cambi di carico chiaro una cosa che aggiungerei a sto punto è anche il fatto che su un collettore a pressione costante noi possiamo installare tranquillamente una due o anche tre turbine senza nessun problema infatti su parecchi motori due tempi di grandi dimensioni ci sono installate anche tre turbine non so se vi è mai capitato ora invece parliamo della sovralimentazione impulsi di pressione in questo caso ogni cilindro sarà collegato alla turbina attraverso un proprio collettore giustamente di dimensioni molto più ridotte inoltre cosa buona e giusta è quella di cercare di creare questi collettori nel nel modo metodo nel modo meno tortuoso possibile proprio per cercare di sfruttare al massimo le punte di pressione dei gas che escono dai cilindri in questa configurazione non facciamo altro che dare a disposizione della turbina una maggiore potenza in confronto a un collettore a pressione costante a discapito però di un rendimento leggermente minore da parte della turbina e a maggiori sollecitazioni che andremo a dare alla girante stessa sovralimentazione impulsi quindi risulta più idonea per quei motori più soggetti a carichi ridotti in quelli a carico più rapidamente variabile nel tempo e in quelli che hanno più bisogno di rapide prese di carico che sono tutte caratteristiche che troviamo nei motori quattro tempi giusto no ora mettiamo che abbiamo un 14 cilindri a v quindi sette cilindri su una bancata e sette cilindri sull'altra bancata non è che noi andiamo a fare sette collettori diversi facciamo un attimo la riflessione poiché tutti sappiamo o meglio tutti dovremmo sapere che indifferentemente che sia un motore due tempi o quattro tempi la fase di scarico dura circa un terzo del giro di manovella la turbina risulta meno soggetta a pulsazioni se verrà alimentata da tre cilindri per cui in teoria la sovralimentazione a impulsi di pressione risulta più indicata su quei motori che hanno cilindri multipli di tre ora non è che se io c'ho sette cilindri invece di sei non posso usare questo tipo di sistema assolutamente no esistono un casino di di schemi di collegamento fra cilindri e turbina questi possono variare a seconda del tipo di motore potenza numero di cilindri il tipo di impiego che dovrà fare questo motore e tanti altri fattori tant'è che a volte può capitare di avere lo stesso motore ma con una diversa configurazione di connessioni tra cilindri e turbina a seconda dell'uso che che ne si farà chiaro no io ragazzi spero di essere stato come sempre il più semplice e chiaro possibile ora devo cercare di montare questo fottutissimo video nella maniera più corta possibile in modo tale che quando lo vado a caricare online non mi costi l'occhio della testa come sempre lasciate un commento iscrivetevi al canale mettetemi un like per oggi è tutto ci vediamo presto ciao